Parliamo del selettore di velocità e dello spettrometro di massa. Questi due strumenti insieme ci permettono, per esempio, di analizzare un gas e sapere la massa delle molecole di cui è composto, cioè dividere le varie molecole in base alla loro massa. Allora, com'è fatto? Cominciamo a guardare questo primo schema. Abbiamo una sorgente fatta in modo da sparare gli atomi che vogliamo analizzare all'interno di un collimatore. Praticamente noi possiamo prendere un gas, ionizzarlo e gli ioni ottenuti mandarli qui dentro. Questo collimatore non è altro che uno spazio con due fenditure. Quindi usciranno da questa seconda fenditura solo le molecole che procederanno in linea retta. Quindi andiamo a vedere adesso il selettore di velocità. Questa zona vede in ingresso molecole che entrano orizzontalmente ma di cui noi non conosciamo la velocità. Quello che vogliamo fare è avere qui una seconda fenditura in uscita dal selettore con molecole che riescono ad uscire solo se hanno una velocità ben conosciuta. Tutte le molecole con velocità differente o defletteranno verso l'alto o verso il basso, vedremo come. Abbiamo poi lo spettrometro. Queste molecole che entrano con una ben precisa velocità faranno un percorso circolare di un ben determinato raggio per andare poi a lasciare un segnale in questo punto. Il raggio che faranno dipenderà dalla massa. Per cui tanto maggiore sarà la massa, tanto maggiore il raggio che faranno. Le molecole con più massa si depositeranno più lontano, le molecole con meno massa più vicino. Adesso vediamo in che modo riusciamo a realizzare questa cosa. Guardiamo il selettore di velocità. Nel selettore di velocità abbiamo due campi. Un campo elettrico, per esempio verso il basso, e un campo magnetico entrante in questo foglio. Abbiamo molecole che si stavano muovendo verso destra. E se vogliamo che queste molecole arrivino esattamente in questo punto, vogliamo quindi che le molecole facciano un percorso rettilineo. Ma visto che questi sono ioni, per esempio appunto ioni positivi a cui ho tolto un elettrone, atomi a cui ho tolto un elettrone, allora questa particella subirà due forze. Una forza elettrica verso il basso e una forza magnetica verso l'alto. Le particelle andranno in linea retta quando le due forze saranno uguali, quindi la forza totale è nulla. Ed è quello che vediamo scritto qui. La forza magnetica del selettore, quindi questo è il campo magnetico del selettore, dovrà essere uguale alla forza elettrica. Semplificando la carica, ottengo che le uniche particelle che arrivano in questo punto sono quelle con una velocità pari al rapporto fra campo elettrico e campo magnetico. Interessante e importante, questa velocità non dipende dalla carica elettrica, quindi che nel produrre gli ioni ci siano ioni con una carica positiva o con due cariche positive non fa differenza. Nel secondo spazio, lo spettrometro, abbiamo un altro campo magnetico diverso dal precedente, adesso per esempio l'ho messo verso il basso, e quindi, scusate, verso l'alto, uscente dal foglio. Questo mi permette di avere un percorso circolare, perché la forza magnetica sarà una forza di tipo centripeto sulla destra del percorso della particella. Quale raggio seguiranno le particelle? Beh, basta dire che la forza di tipo centripeto è una forza magnetica, dove questo campo magnetico è diverso da quello del selettore. Semplificando la velocità e ricavando il raggio, abbiamo che il raggio dipende dalla massa della particella, dalla sua velocità, dal campo magnetico e dalla carica. Quindi io posso separare le particelle in base alla massa che hanno.